Ciao ragazzi, ben ritrovati, come state? Tutto bene? Allora, secondo video della giornata, oggi abbiamo fatto uscire le pagelle con anche un piccolo accenno alla live reaction, ma oggi pomeriggio volevo parlare un po' di quelli che sono stati i sorteggi e soprattutto di quello che è il mood generale della Juventus. Abbiamo pescato il Friburgo ed è una squadra probabilmente un po' rognosa, devo dire la verità, perché adesso ci arriviamo, guardiamo un po' di statistiche, un po' di numeri, ma soprattutto abbiamo evitato l'Arsenal che era in assoluto il problema più grande, l'ostacolo più grande da affrontare, proprio perché sta dominando o comunque primo in classifica all'interno di un campionato come la Premier League. E quindi sarebbe stato sicuramente un avversario tosto, magari potremmo incontrarlo più avanti, chissà, speriamo, però al momento l'avrei evitato volentieri. Friburgo, allora, qualche nozione sul Friburgo. In questo momento questa è la classifica della Bundesliga, io non ho mai visto una partita del Friburgo quest'anno, ma sarà probabilmente necessario recuperare qualcosina. Friburgo che al momento è quarto in Bundesliga, ben 40 punti. Il Bayern Monaco è primo a 43, il Borussia Dortmund è secondo a 43, l'Union Berlin è terzo a 43, il che significa che il Friburgo è secondo a livello di punti in classifica, 21 partite giocate. E nelle ultime cinque, tre vittorie, un pareggio, una sconfitta. Quindi è una squadra che in Bundesliga è a meno tre dal primo posto, ovviamente primo posto in questo momento in compartecipazione da Bayern Monaco, Boris Dortmund e Union Berlino. Quindi sicuramente non è un avversario da prendere, da sottovalutare, anzi, credo che qualsiasi avversario probabilmente al campionato tedesco sia in questo momento per gli italiani da tenere sott'occhio. Anche il Napoli l'altra sera che ha giocato contro l'Aintracht è riuscito a vincere, però è stata una partita probabilmente più tosta rispetto a quella che poteva, almeno personalmente, che potevo aspettarmi sulla carta, visto che andava a scontrarsi la sesta di Bundesliga, anche in questo caso comunque a cinque punti dal primo posto, contro una squadra che in questo momento sta dominando in Italia e sta veramente dimostrando tanto in Europa. Quindi credo che sia necessario non sottovalutare una squadra di questo tipo a maggior ragione nella nostra situazione. Cioè una squadra che è in difficoltà dal punto di vista mentale, per via anche di cose purtroppo extracampo, è una squadra che è finita in Europa League dopo essere stata retrocessa dalla Champions. Tra l'altro il Friburgo, controllato, nella scorsa stagione non è andata in Champions per un totale di cinque punti. L'anno scorso in Europa le tedesche sono state tantissime, anzi quest'anno in Europa le tedesche sono state tantissime per via della qualificazione. L'anno scorso è per via della vittoria della Coppa UEFA da parte dell'ex squadra di Kostic. Quindi questo è un po' il resoconto a livello di classifica della Bundesliga. E poi consiglio questo tweet di Alex Campanelli che seguo su Twitter, che ha voluto darci la formazione tipo del Friburgo. Eccola qua, io non li conosco, leggevo di stare particolarmente attenti a Gunter e Ginter, quindi fanno anche rima, anzi rima, fanno ridere più che altro, che sembrano pinco panco e panco pinco. C'è Vincenzo Grifo lì davanti e ci sono altri giocatori interessanti. Ci sono anche alcuni appunti. Friburgo quarto in Bundesliga, come abbiamo appena visto, con un allenatore in carica dal 2011, quindi sicuramente un allenatore che conosce bene i suoi uomini e i suoi uomini che conoscono un bel allenatore. Può giocare sia a tre che a quattro dietro, infatti cambiano modulo molto spesso. Gli esterni sono pericolosissimi, abbiamo visto Grifo in questo momento, è il miglior momento in carriera. Benissimo, proprio noi abbiamo beccato il miglior momento in carriera. Undici gol e quattro assist, mica male. Dohan scheggia impazzita. Oller passato da punta a trequartista a mezzala. Grande senso alla posizione, appunto, da stare attenti ad alcuni difensori, tra cui Ginter, molto forti nel gioco aereo, ma un pochino lenti come coppe. Quindi questa è una sorta di riassunto preliminare, poi cercheremo di andare un po' più nel dettaglio, perché sicuramente la Juventus in questo momento è molto interessata a fare un'ottima Europa League. Allora, mi sono dimenticato di dire una roba nel video di oggi. Non so se avete visto, magari qualcuno è interessato. C'è uno sconto sullo store della Juventus per via del gol di Di Maria, è tipo uno sconto che si chiama El Fideo, dovrebbe essere oltre il 20% di sconto. Ovviamente capita nel momento in cui io la settimana scorsa ho comprato, come potete vedere, dietro di me la terza maglia della Juve, che era l'ultima che mi mancava. E quindi potevo semplicemente aspettare e comprarla con lo sconto. Invece me la sono comprata a Torino, ho fatto anche un sacco di file insieme ad Avom. Solita fortuna. Per chi invece è interessato c'è questo sconto sullo store ufficiale della Juventus. Alessandro Del Piero. Perché Alessandro Del Piero? Perché in tanti ci sono rimasti male dal fatto che io non abbia citato Del Piero nell'elenco di giocatori da mettere vicino di Maria. Per me Del Piero è sempre sopra tutti quegli altri. Potranno anche essere più forti quelli che verranno, ma Del Piero è sempre sopra tutti. Del Piero per me è un esempio. Del Piero è storicamente il giocatore al quale sono più affezionato. Non l'ho messo nell'elenco per un motivo. Quando abbiamo iniziato il ciclo degli scudetti, quindi il primo scudetto, Alex Del Piero era già in fase calante. Era l'ultima stagione. Ha fatto pochi gol, ma pesanti, pesantissimi, anche in chiave del primo scudetto, il primo successo targato Antonio Conte. Però purtroppo Alex non era già più in quella dimensione. È ovvio che vada a sedere al tavolo dei grandissimi insieme ad Angel Di Maria. Se non l'ho detto, se non l'ho citato, non è stata una dimenticanza. È stata volontariamente omesso, perché proprio Del Piero è qualcosa di più, è qualcosa di oltre. Credo che sarà sempre e per sempre inarrivabile Del Piero. Non so se ci sarà qualche altro giocatore che potrà arrivare a competere con lui per quello che è il mio affetto o la mia considerazione ai confronti Del Piero. Sarebbe un sogno incontrarlo e fare una foto insieme a lui. Veramente, è un traguardo che mi do e spero che tutto questo lavoro sul web possa prima o poi aiutarmi a realizzare questo desiderio. Desiderio molto molto bello. Allora, ieri sera nel post partita vi ho detto, non c'è da esaltarsi. E in tanti nei commenti invece hanno detto, no, io mi esalto perché in questo momento di difficoltà almeno mi prendo il buono. E ci sta. Questo è assolutamente giusto. Ma non significa che io non sia felice. Io sono stato felicissimo della partita di ieri. Chi era in live con me su Twitch lo sa, abbiamo vissuto un bellissimo pomeriggio, un inizio di serata. Siamo stati contenti, abbiamo scherzato, abbiamo riso. Ed era un mood che da un po' mancava all'interno delle reaction perché siamo sempre stati lì in ansia a cercare di capire se sarebbe effettivamente arrivata con noi. E' stata una vittoria tranquilla, è stata una vittoria forse addirittura non sperata in queste circostanze perché mi immaginavo qualcosa di peggio rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Invece ci siamo andati molto molto tranquillamente. Però credo che il tifoso Juventus non possa esaltarsi per aver passato uno spareggio di Europa League contro il Nant. Anche in questa situazione perché dobbiamo sempre ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Dobbiamo sempre ricordarci quello che è lo status della Juventus in generale nella storia del calcio. Non siamo ancora a livelli disastrosi perché in questo momento la Juventus è ancora in competizione in Europa League e la Juventus doveva passare con il Nant. Per questo vi dico non esaltiamoci, non abbiamo fatto niente. Non possiamo mettere questa vittoria al fianco delle vittorie storiche in Europa. Questo è la prassi, cioè la Juventus deve battere il Nant. La Juventus deve battere il Maccabi Haifa. Capisco che quest'anno sia successo anche di perdere contro il Maccabi Haifa. Capisco anche che quest'anno si sia pareggiato in casa contro il Nant. Però questa è la normalità. Quindi la felicità è un conto ma l'esaltazione è un'altra. Io credo che sia necessario tenere i piedi ben per terra perché abbiamo affrontato una formazione umilissima. Una formazione che era già contenta di essere arrivata lì a cullarsi la possibilità di vivere un sogno e di buttare fuori la Juventus. Queste sono le belle storie secondo me nel calcio. Una squadra come il Nant da metà classifica addirittura meno della Ligue 1 che è un campionato sì tra i top europei. La Serie A non è chissà che cosa ma la Ligue 1 probabilmente è peggio. Non è che noi possiamo esaltarci perché abbiamo battuto una squadra a metà classifica. Prima dell'andata guardavamo bene o male a livello di punti raccolti, gol fatti, gol subiti si poteva ipotizzare un confronto con il Lecce all'interno della Serie A. Io capisco che era anni che non si passava un confronto diretto, era anni che non si vinceva magari in trasferta con questa facilità per passare il turno. felicità credo che sia logica e sacrosanta maggior ragione in un momento simile perché il tifoso del Juventus è qualcosa che deve pure aggrapparsi in questo finale di stagione e credo che sia giustissimo aggrapparsi sia l'Europa League che la Coppa Italia che saranno difficilissime perché il tasso di questa Europa League è abbastanza elevato. Abbiamo visto che ci sono delle squadre, ieri è andato fuori pure il Barcellona che esce da Champions ed Europa League a febbraio. C'è un Manchester United abbastanza in forma, c'è appunto il Friburgo da non sottovalutare, c'è l'Arsenal che non c'è nemmeno da parlarne, c'è la Roma di Mourinho che comunque sicuramente potrebbe essere un avversario ostico. Ci sono tante squadre ragazzi di Real Sociedad, ce ne sono tantissime in questo momento che vanno monitorate, vanno tenute d'occhio perché sono sicuramente squadre interessanti. C'è l'Union Berlin che abbiamo visto prima in Bundesliga e ci sono tante squadre, tante tante squadre interessanti che vanno monitorate. Il Nantes, con tutto rispetto per il Nantes, era una squadra normalissima che la Juventus doveva eliminare perché i casi erano due. Eliminavi il Nantes, facevi la cosa più normale del mondo o venivi eliminato al Nantes ed era fallimento totale su tutto il fronte. Quindi io sono felicissimo, mi sono goduto tranquillamente la partita, mi sono anche rilassato e non credevo di potermi rilassare durante una partita di ritorno in Europa, però finisce lì. Sappiamo anche che è stata una partita difficile da analizzare, perché quando poi al minuto 20 sei avanti di due gol e loro hanno anche un uomo in meno e sono sulla carta una squadra che ha poco da dare, la partita è praticamente finita. Nell'intervallo, lo abbiamo detto, è molto complicato che loro tornino in avanti. Un altro gol significherebbe qualificazione al 100% e ci eravamo andati vicino con quel palo di Kostic. È stata una partita a senso unico, è stata una gara a senso unico, è stata anche una qualificazione a senso unico, perché anche all'andata la Juventus ha fatto una buona prestazione, ha avuto delle ottime occasioni. Non l'ha chiusa, ci sono stati episodi, non l'ha voluta chiudere, non è stata cattiva e ieri la Juventus ha capito questo errore e ha cercato di limitare i danni, ha sistemato quello che già doveva fare all'andata. C'è stato bisogno anche del turno, all'andata abbiamo fatto il tridente, nel ritorno invece Vlaovic in panchina, chiesa non convocato, è stata anche, se vogliamo, un po' più morbida, un po' più tranquilla. Però io non posso pensare che il tifoso dell'Iventus si vada ad esaltare per aver vinto 3-0 negli spariggi di Europa League contro una formazione poco meno di metà classifica in Francia. Credo proprio che sia illogico, che se fosse stata una finale di Europa League ti avrei detto, vabbè, anche se il Nantes ci sono arrivati, il che significa che... Nantes, ragazzi, io, adesso forse esagero, non lo so, ma a me tra andata e ritorno sono sembrati decisamente più scarsi rispetto al Maccabi Haifa, eh. Decisamente più scarsi rispetto al Maccabi Haifa, che comunque qualche occasione allo Stadium l'ha avuta, è che comunque in casa loro sono riusciti a darci due pappine. Altra Juve, altro momento, altre difficoltà, altri contesti anche diversi rispetto a quelli attuali di tribunali, lì era più un momento da campo dove la Juventus stava andando male proprio sul campo perché non si riusciva a trovare il bandolo alla matassa. Però a me è sembrato più forte il Maccabi rispetto al Nantes, ripeto, con tutto rispetto per Nantes perché hanno fatto la partita che dovevano fare all'andata e avevano accennato anche a una partita aggressiva al ritorno, quindi assolutamente rispetto per loro e per i loro tifosi che hanno offerto uno spettacolo meraviglioso. Poi Di Maria ha deciso che bastava poco, e per poco intendo una tripletta europea, per portarsi a casa il pass dove andremo a affrontare appunto il Friburgo. Quindi fatemi sapere un po' le vostre riflessioni su queste considerazioni. Noi ci vediamo domani dove proveremo a fare una nuova analisi in attesa del derby. Adesso c'è qualche giorno di relax dove possiamo respirare, ma sicuramente qualcosa da dire lo troveremo. Ciao ragazzi!